Questa è anche cos'era, che è tutto transennato? Il barbiere Ah si Poi qua Qua è tutto chiuso C'era un bar C'era anche un'autoscuola qua sotto Comunque mi sa che passi molto tempo prima che riescono a recuperare qualcosa Qui c'era la tabaccheria che è andata in Piazza Italia La torre dell'orologio non c'era rimasta? Era tanto che non la vediamo Qua dopo la prima era rimasta su però in parte Adesso non c'è più niente, c'era rimasto solo l'arco L'arco è vasta La banca La torre è caduta sopra Sopra All'appartamento Un paese, una desolazione Le cose che non mancano sono i piccioni Ce ne sono in quantità Alla su Sembra proprio un paese fantasma Già che andiamo a vedere la rocca E poi andiamo a fare la spesa що i bambini Questi dai anche apro Ah, Mark喝 una rocca La ovunque erano quattro torre Adesso è rimasta la torre principale poi che l'hanno tutta incatenata Ti ricordi sindaco? Ti è messo a piangere qua il sindaco? Sì, sì, ma di fronte è... Il monumento storico è il simbolo del nostro paese questo. Un bel disastro Gianni, ogni volta che uno lo vede penso che sia una cosa proprio... Grazie per la visione!